Fare un percorso più agevole con un vettore meccanico che sarà installato dalla piazza Matteotti? Sì, è un intervento strategico, onestamente non a servizio solo ed esclusivamente della comunità vietrese, ma è un discorso di carattere comprensioriale ed è un discorso di mobilità alternativa rispetto a quello del trasporto su gomma, quindi un trasporto su ferro che renderebbe agevolo l'accesso a piazza Matteotti che è il punto di snudo anche per la costiera amalfitana. E quindi un incremento del traffico ferroviario, speriamo che la metropolitana leggera possa arrivare fino a Vieti sul Mare laddove ci sarebbe un terrazzone panoramico con una vista mozzafiata e dal punto di vista paesaggistico e di quello che è la possibilità di uno sguardo nel profondo della costiera sarebbe un qualcosa di indicibile e di inerrabile. Il progetto è stato già finanziato dalla Regione Campania, in pratica si tratta di un elevatore e di un ascensore per rendere più semplice il concetto? Sono due ascensori, tutti e due in roccia, con una galleria orizzontale ed una galleria verticale. Il progetto è stato finanziato dai PORFERS 2007-2013 e quindi deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2015, deve essere rendi contato, quindi stiamo parlando da qui ad un anno, forse potremo avere, io lo spero, l'inaugurazione di questi due ascensori in roccia di cui uno sale e un altro scende, con l'accesso a evitare tutta la salita per arrivare alla stazione ferroviaria e farla dall'interno. Questo significa che già c'è una tabella di marcia quando inizierà il cantiere? Diciamo che la gara d'appalto è stata, le busse sono state consegnate giorno 10, quindi lunedì, credo che per l'inizio del mese prossimo inaugureremo anche il cantiere. Ripeto, è un'opera che serve a Vietri, serve alla costiera Amalfitano, serve un po' a tutti i comprensori, ma anche Cava dei Tireni. Se lei pensa che nel periodo in cui c'è stata la frana sul Salerno-Vietri è stata utilizzata la strada ferrata con tutte le difficoltà di accesso alla ferrovia e si è valutato che da Vietri a Salerno, stazione centrale, il trenino ci impiega 4 minuti, da Vietri a San Leonardo, eventualmente con la metropolitana, e quindi all'ospedale 8 minuti. E sfido chiunque ad arrivarci con la macchina.